Diventa un esperto di spedizioni e trasporti. Iscriviti al corso gratuito, tecnico delle spedizioni e del trasporto. Questo percorso formativo gratuito, organizzato dalla Regione Lazio, che prevede 280 ore di aula e 300 ore di tirocinio, presso aziende partecipanti per un totale di 580 ore di attività, che saranno sviluppate nell'arco di circa sei mesi. Il piano didattico sarà sviluppato nell'ambito del progetto Distribuzione Academy, finanziato dalla Regione Lazio. Il corso è rivolto a sei candidati, disoccupati o inoccupati, di età minima richiesta 18 anni e età massima 35 anni, e in possesso di licenza media. Durante l'intero percorso, sarà corrisposta ai partecipanti una borsa per la formazione e il tirocinio, di 800 euro al mese. Il corso è finalizzato alla possibilità di assunzione. Al termine del percorso formativo, è previsto l'esame per il rilascio della qualifica professionale. Per maggiori informazioni, contattare il numero 00773663481 oppure scaricare il modulo di adesione. Si trova nel nostro canale Jalia Arabia ed inviarlo a questo email academy-siteform.it Il termine per presentare la domanda è il 20 marzo 2024.